Arriviamo a questa Supercoppa pronti, abbiamo fatto una preparazione molto intensa, abbiamo lavorato duro e penso siamo pronti per il primo impegno ufficiale. Ovvio, giochiamo contro Sassari che è la squadra di casa, la squadra organizzatrice, una squadra costruita per giocare l'Eurolega, quindi è ovvio che loro siano favoriti, ma noi siamo convinti di poterci giocare le nostre possibilità, veniamo qua, cerchiamo di giocare al nostro ritmo, di fare la nostra partita, poi alla fine vedremo chi ne verrà la meglio.